Ho detto, rappresentami qualche cos'altro, ho rappresentato il nonno e il nonno papero, tutto colorato. Quindi questa è la rappresentazione della visione di quello che la mia nipotina ha di me, ma sta facendo un'operazione di traslazione verso l'operazione, prima di tipo concettuale, poi di tipo anche formale. E infatti i modelli mentali sono il modo attraverso il quale noi ragioniamo e deduciamo, soprattutto noi il nostro lavoro è di dedurre, poi dopo creiamo delle leggi che ci permettono poi di rienterpretare il modo in cui ci circondiamo. Ma le nostre leggi sono molto, ma molto deboli rispetto alla realtà, tant'è vero che quando noi modellizziamo le leggi, queste leggi si devono confrontare con la realtà e dobbiamo cercare di trovare il modo migliore per fare questa operazione, noi cerchiamo di una tecnica che ormai ha una grossa impronta dal punto di vista scientifico, i cosiddetti problemi diversi. Cioè noi vediamo la realtà che sta fuori di noi e la confrontiamo con la realtà che sta dentro di noi. E il confronto con la realtà, queste due realtà, fa sì che ci sia la capacità di riprodurre questa realtà che vediamo all'esterno. Qui vedete c'è un cavaliere che sta cercando di capire se l'immagine che lui vede sul terreno è qualche cosa che lui conosce, che tipo di drago può rappresentare. Ebbè questo è il modo con il quale noi rappresentiamo la realtà perché ogni volta che noi rappresentiamo e vediamo come operare sulla realtà facciamo un'operazione di estrapolazione concettuale che ci permette di fare un'operazione di approccio alla realtà stessa. Ma non è detto che sia la realtà, tant'è vero che ci sono dei problemi grossissimi nel momento stesso in cui trattiamo la realtà che ci sta all'esterno. Perché noi dobbiamo introdurre dei concetti che sono dei concetti non facili da capire. Ad esempio abbiamo introdurre dei concetti di infinitesimo. Nessuno di noi ha questo concetto di infinitesimo in mano, però l'abbiamo dovuto introdurre. Questo concetto di infinitesimo è un concetto che è stato introdotto per varie regioni, poi da Newton, poi da Larnitz, successivamente da Weistras, poi oggi nel caso dell'analisi non standard e anche da Robinson. Bene, questo concetto è un'astrazione che noi abbiamo creato in noi stessi per cercare di interpretare la realtà, ma in realtà non è così. Cioè la realtà è ben tangibile e dimensionalmente è infinita, non è un qualche cosa di astratto come quello che è stato introdotto nel metodo dei flussioni o nel metodo di Larnitz attraverso gli infiniti e gli indefiniti. Ecco perché io ho detto noi siamo qua, probabilmente sei qui, però l'errore che io sto compiendo è grande quanto voglio. Può essere che io stia sullo spazio e voglia vedere l'immagine che sta a terra, ma l'immagine che sta a terra ha un errore che io non posso definire e questo errore è quello che mi porto dietro. E nel momento stesso in cui trasferisco la mia informazione al mio sistema, il mio sistema complessivamente mantiene dentro questo errore, se questo errore è troppo grande io smacco. e quindi ad esempio è ben noto che con un GPS io posso fare una misurazione dell'ordine di 30-40 centimetri, ma in certe condizioni posso anche non fare nessuna misurazione perché l'errore è troppo grande. Anzi, tante volte questi GPS per uso di altra attura che non sono perfettamente civile, ad esempio militare, vengono degradati e diventano degli strumenti che non hanno la capacità di leggere il territorio come vorrebbe. Quindi questo concetto di errore che noi ci portiamo dietro è un concetto che pervade tutta la nostra società, tant'è vero che il modo di rappresentare la realtà è sempre fatto in funzione dell'esperienza e mai è fatto in funzione di un metodo matematico rigoroso, perché ci abbiamo dei problemi a rappresentare irrigorosamente la matematica che faccio all'inversione. Fatto per dare un'idea, se io utilizzo dei numeri non primi fra di loro e vado a vedere qual è il loro prodotto quando faccio l'inversione, questi numeri primi possono essere non primi, possono essere scomposti dai numeri primi i quali a loro volta mi producono un errore. e questa è un'operazione che ogni giorno facciamo noi ma che di fatto viene poi formalizzata attraverso un metodo che noi chiamiamo il metodo dei numeri quadrati, cioè cerchiamo di minimizzare l'errore per cercare di arrivare effettivamente.